Cercate un portarotolo stabile che eviti di farvi fare questo o di dover per forza strappare la carta con due mani, date un occhio a questo. Il design è molto curato ed è bellissimo anche da esporre sul piano della cucina. La base è super stabile e la parte sotto è antiscivolo così quando andate a prendere la carta non vi viene dietro. La maniglia sopra è un piccolo dettaglio ma super comodo perché permette di spostarlo facilmente. Ma la parte più interessante è questa. Andrà a fermare la carta evitando che il rotolo si srotoli e permettendovi di strapparla con una sola mano. In modo che l'altra possiate continuarla ad avere libera se state cucinando. Se dovete prendere l'aereo con il bagaglio a mano questi contenitori sono comodissimi. Invece delle solite bottigliette spuse qui avete una confezione con 4 contenitori da 50 ml. Sulla confezione esterna c'è una parte trasparente così riuscite a vedere dalla scala graduata quanto prodotto è rimasto. E vi basterà girare in questo modo per utilizzare i vari prodotti all'interno. Per distinguere i vari prodotti si possono colorare queste parti in modo diverso o aggiungere una targhettina qui sopra. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e se vi sono utili per queste vacanze. Questi simpatici orzacchiotti contengono dei fogli di sapone. Da asciutti sembrano dei pezzetti di carta ma bagnandoli diventano un sapone vero e proprio. Vi sarà capitato di andare in giro e non trovarlo per lavarvi le mani. Questa scatolina è piccola e compatta, non occupa tanto spazio ed è comoda da portare dietro sia in una borsa piccolina che in uno zaino di scuola dell'università. Se ve lo state chiedendo si vendono anche dei ricarichi così vi basterà comprarle di nuove e non dovrete riacquistare tutte le scatole.